E adesso come la mettiamo con tutti quei ferraristi di maniera che sino a ieri l'altro erano convinti che il 2021 sarebbe stata l'ennesima stagione inutile, con un grottesco rinvio alla solita annata prossima per mascherare un vuoto di idee e contenuti? D'accordo, non è successo niente, domenica in Turchia ha vinto ancora la Mercedes, ma forse è sfuggito che la Ferrari si sia trovata meritatamente al comando sia in Russia con Sainz per 11 giri, sia a Istanbul con Leclerc per altri 8, e non parlo di quei giri interlocutori in cui passa al comando chiunque nel gioco del pit stop, no, la Ferrari è stata in testa a pari condizioni, se l'è giocata alla pari con Red Bull e Mercedes che sono le dominatrici del campionato, la nuova Power Unit ha permesso di andare forte sia a Leclerc sia a Sainz, sgombrando l'equivoco delle prodezze del singolo di turno, anche se Charles è stato magistrale nel ritrovarsi a soli 7 secondi da Bottas e a 2 da Verstappen, che è il leader del campionato, sino al momento dei cambi gomme. La macchina quindi c'era, per la prima volta non si trovava in imbarazzo nella lotta tra i migliori. Poi Leclerc ha avuto la straordinaria visione di poter vincere senza fare il pit stop. Una folgorazione senza senso, ma meravigliosa, durata un attimo. Poi si è fermato pure lui concludendo quarto, mentre nelle retrovie Sainz macinava giri da primato, ma era troppo distante. Improvvisamente si è quindi aperto uno squarcio per guardare all'anno prossimo con un mezzo sorriso, giustificato da riprove che aspettavamo da tanto tempo. La Turchia ha mostrato la sostanza di un motore migliorato nel recupero di energia del sistema ibrido, che ha solo una decina di cavalli più del precedente, ma esprime più potenza nell'utilizzo, per cui accelera prima e nei rettilinei permette di arrivare in anticipo alla velocità massima, ovvero i sorpassi ora sono meno problematici di un paio di gare fa. Globalmente la Ferrari non ha recuperato la distanza che la separa da tempo da Red Bull e Mercedes, però adesso è più vicina e in condizioni particolari può persino pungere e regalarci emozioni. Beh, non era quello che cercavamo. Ah sì, poi c'è stato il Gran Premio che ha vinto Bottas, il quale per un giorno ha dimenticato di essere un gregario e ha conquistato il successo più bello della sua carriera. Bottas non è un pilota lento né tanto meno incapace. Tecnicamente, mi dicono gli ingegneri della Mercedes, è spesso determinante nella messa a punto della macchina, la W12 che quest'anno è apparsa difficile da adattare alle varie piste. Ma Walter è un difetto, gli manca la costanza, non sempre è veloce come servirebbe ed è per questo che è stato messo gentilmente alla porta dopo cinque stagioni in cui ha ottenuto almeno finora dieci vittorie confrontandosi con Hamilton che, conti alla mano, è il più grande campione di sempre. Lui sa Istanbul partiva indietro ed è giunto quinto. Poteva andargli peggio ma Bottas ha impedito che vincesse Verstappen e non è poco. Col secondo posto e grazie anche al meteo ballerino di Istanbul, Max è quindi tornato in testa, al Mondiale con una Red Bull che stavolta dava la sensazione di faticare parecchio. Come usano dire coloro che non sanno cosa dire, il Mondiale adesso è apertissimo. Già, ma se ci fosse una macchina rossa nelle ultime sei gare a disturbare i sogni di chi è abituato a pensare sempre in grande? Beviamoci un caffè insieme e pensateci per un attimo.